Ciao a tutti! Allora, non so se avete ricevuto tutti, dovreste, come assistenti sociali, scritti la letterina di quasi Natale del Presidente del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali. Cosa c'è scritto in questa letterina? Nella sostanza molto molto sintetica c'è scritto che per riuscire a rispondere a tutte le proprie funzioni, a migliorare, a lavorare sull'immagine degli assistenti sociali, a far lavorare la fondazione al meglio, il Consiglio Nazionale, e per aiutare i consigli regionali, il Consiglio Nazionale richiederà, anzi, pretende sostanzialmente, 5 euro in più da ogni iscritto. Ora, io ho fatto i conti della serva. 5 euro in più per ogni iscritto in Italia, stante più o meno 55.000 iscritti, sono 275.000 euro. Per fare esattamente cosa? Perché è scritto, dal mio punto di vista, mia opinione personale, un po' troppo vago che cosa si vuol fare con 275.000 euro in più. Stante anche il fatto che già questa consigliatura, entrata più o meno tre anni fa, ha già aumentato la quota che passa dai regionali al nazionale. Quindi i regionali si sono visti togliere un pezzo di quota. Quindi non so quanto sono contenti, onestamente, o quanto sono stati aiutati. Detto questo, poi c'è scritto che verrà presa un assistente sociale, ricercatore, specialista, progettista, a partita IVA o a COCOCO. Non c'è scritto per fare esattamente cosa, ma anche per la fondazione. Ora, io dico intanto, grazie alla mia grande collaboratrice Sara Visentina, abbiamo verificato che non ci sono criteri per criteri di tipo, di competenze specifiche, di titoli specifici rispetto a questo profilo. Non è richiesto un dottorato, non è richiesto che abbia fatto concretamente attività di progettazione di un certo tipo, non è richiesto niente, se non delle questioni molto, molto vaghe. In più, e quindi già, onestamente, a me questa cosa lascia un po' perplessa. Perché non essere trasparenti su dei criteri molto rigidi, molto pratici, rispetto a quali competenze concrete, operative, quali titoli deve avere questa figura? Perché che un ordine prenda una figura di ricercatore, progettista, specialista, senza un dottorato di ricerca, quando ovunque nel mondo, questo sarebbe il primo requisito come titoli, a me è un po' puzza, scusate, lo dico sinceramente, a me è puzza, non dico che ci sia malafede dietro, o che sia già stato scelto qualcuno, ci mancherebbe altro. Poi, l'altra questione è, ma sta cavolo di fondazione, di cui onestamente io non sentivo per niente il bisogno, ma questo è una mia idea personale, eh, l'ordine poteva fare delle, come dire, creare delle convenzioni con associazioni, con altri assistenti sociali che lavorano privatamente, che hanno cooperative, bla 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 bla, e poteva farlo in maniera trasparente e pubblicamente. Questo è il mio punto di vista, totalmente personale. Detto questo, alla fondazione sono già stati dati 130.000 euro, ok? 130.000, ora la fondazione non dovrebbe diventare autonoma, dobbiamo continuare noi a sovvenzionarla? Se è una fondazione, la fondazione che diventi autonoma, perché dobbiamo continuare a dare noi soldi? Poi si dice che la fondazione ha dato lavoro a 40 assistenti sociali, ora, io che abbia visto il bando che c'è stato, è stato un bando in cui era due assistenti sociali, se non sbaglio uno o due psicologi, un bando per 40 io non l'ho visto, ma magari è sfuggito a me. Se qualcuno l'ha visto, ditemelo. Ma la mia domanda è, si può avere un po' più di trasparenza, invece della letterina di Natale del Presidente, onestamente? Un po' più di trasparenza, invece di andarci a cercare ogni volta tutte le decisioni che sono state prese nelle delibere? Io me le leggo, ma le devo fare ogni mese, andarmela a cercare, aspettare di vedere quando sono pubblicate, e via dicendo, così come mi sono letta quello in cui sono stati alzati le indennità dei consiglieri del Presidente, perché anche questo è vero, con questa consigliatura, ma c'è tutto in altri video. Ora, ma davvero dobbiamo aumentare ancora? Aumentare per cosa? E anche qua, perché vengano fatte delle azioni per, come dire, agevolare un'immagine differente della nostra professione? Ok, come? Da chi? Dateci progetti, diteci come lo volete fare, chi volete far entrare in queste cose, sempre i soliti noti, sempre quelli che li hanno fatti fino adesso, ma chi li ha fatti fino adesso evidentemente non ha avuto molto successo, possiamo dirlo? Perché l'immagine dell'assistente sociale è ancora fortemente legata a connotazioni negative, un po' perché ce la portiamo dietro, perché continuiamo a metterla in atto come comunità, e un po' perché evidentemente chi finora ha comunicato non è stato in grado di comunicare in una maniera che sia stata efficace, cioè che sia arrivata a coloro a cui doveva arrivare. E allora? Riutilizzeremo i soldi per far lavorare sempre gli stessi? O useremo questi soldi per fare le cose davvero in maniera diversa, ma davvero in maniera diversa decisa da chi? No, perché questo secondo me è interessante, i processi decisionali sono interessanti. Quindi, se hanno già deciso che servivano 275 mila euro in più, bene, ci dicono esattamente per cosa, 20 mila euro per questo, 50 mila euro per quest'altro, 40 mila euro per quest'altro, 24 mila euro per questa benedetta assistente sociale ricercatrice specialista Wonder Woman, ma senza un dottorato di ricerca. E sia chiaro, io non me ne frega assolutamente niente di farlo, quindi non mi sto autocandidando, me ne guardo bene, 24 mila euro sono onestamente molto troppo, troppo, troppo pochi. Quindi, detto questo, però vorrei che quella roba lì andasse a farlo una persona che ha dei titoli, che è in grado di fare ricerca e non onestamente la ricerca come è stata fatta fino adesso. Non parliamo e anzi ne parleremo della ricerca fatta sull'aggressività. Come dire, una ricerca ma faremo un'analisi metodologica. Io un dottorato ce l'ho, credo di essere in grado di fare un'analisi, come dire, di metodo sulla ricerca che è stata fatta. E la farò in maniera puntuale dopo essermi letta, bene, bene, tutta la documentazione che mi sono fatta inoltrare. Detto questo, ora, io vorrei sapere per trasparenza questi 275 mila euro, visto che evidentemente un bilancio preventivo sarà stato fatto se chiedono proprio 5 euro a persone, quindi 275 mila euro, dove vanno destinati e a chi. E onestamente gradirai non dovere come iscritta ogni volta andare dentro al sito del mio regionale e del nazionale a vedere tutte le deribili e a dovermele leggere tutte, così come viene fatta la letterina prenatalizia. Ecco, anche una letterina con scritto, cari iscritti dei 275 mila euro che vi abbiamo chiesto in più, abbiamo deciso di destinarne 24 per questo, abbiamo selezionato questa persona per questo e questo motivo, abbiamo deciso di usarne 50 mila per rifare il sito, boh, dico cazzate perché con 3 mila euro si fa un sito fighissimo, abbiamo deciso di usare 50 mila euro per riuscire a fare una comunicazione realmente efficace fatta da questo centro di comunicazione e chiamiamo centri di comunicazione seri, non facciamoci le cose in casa, chiamiamoli seri, spendiamoli sì 50 mila euro, porca di quella miseria, creiamo un comitato fatto di assistenti sociali che lavorano diversamente, che pensano diversamente, non sempre le solite persone e magari anche persone, scusate, che all'ordine stanno sulle palle, perché l'ordine ha bisogno di vedere e di pensare in maniera diversa e non di chiamare gli amici, ma di chiamare persone che abbiano idee contrastanti, che abbiano idee divergenti, che abbiano idee anticonvenzionali e lavorare con dei thinkers, delle agenzie di comunicazione serie e selezionate con una modalità seria, trasparente, ecco diteci esattamente questi cavolo di 275 mila euro aggiuntivi dove vanno.